Ciao a tutti ragazzi e ragazze come state? Spero che tutto vada bene, se siete nuovi nel mio canale siete i benvenuti, se invece siete già iscritti siete i bentornati in questo nuovo video dove rullo di tamburi, non ho dei veri tamburi quindi immaginiamoceli, vi andrò a consigliare delle storie Woodward perché ho notato, anche perché me l'hanno fatto notare molti di voi su Instagram così, che non tutti hanno la possibilità di poter comprare libri comunque cartacei, comunque di poterli anche magari leggere così su Kindle e perciò mi sono detto io consiglio sempre libri cartacei perché non apro una rubrica dove metto solo libri presi da Woodward, perciò mi sono andata da fare quest'estate e ho letto diverse storie su Woodward, vabbè io in realtà leggo sempre Woodward, però comunque storie poco conosciute che magari hanno quei 2000 visualizzazioni, così ho scritto alle autrici su Instagram, dopodiché tutte le autrici che volevano partecipare così mi hanno scritto, lo ribadisco anche qua in caso qualcuno di voi o qualcuno di voi qua fosse comunque un'autrice, un autore, può sempre contattarmi su Insta, trattino basso, leggiamo insieme trattino basso, io sono sempre disponibile per delle collaborazioni sia digitali che cartacei, sia su Woodward, così via, infatti ho tipo 10 collaborazioni ancora da leggere ma comunque li leggerò perché sono libri veramente che meritano e perciò quest'estate mi sono andata da fare, ho cercato diversi libri, diversi autrici così e ho trovato veramente dei capolavori, così ho fatto una selezione perché ho letto veramente un'infinità di libri ma ho fatto una selezione veramente molto molto ristretta perché come molti di voi sanno comunque io sono una che tendo a classificarci, a leggere i libri in base comunque alla classificazione se sono tipo invernali oppure se sono libri estivi così via, ecco, dato che questo video doveva essere fatto ad agosto, ma io sfortunatamente ve lo porto ora perché ho avuto da fare questi libri, alcuni sono invernali, altri sono estivi ovviamente dal mio punto di vista e non ve lo dico perché non sarebbe corretto, cioè non li lascerei, no? immaginare, vabbè comunque dal mio punto di vista così, perciò mi sono ritrovata a farlo ad ottobre perché devo farlo ad agosto, poi ad agosto non avevo, cioè tutte le autrici perché non tutte le autrici mi avevano diciamo mandato tutto quello che mi serviva, no? solo alcune di loro e quindi non potevo procedere con l'estrazione, ho preceduto con l'estrazione e tutto, alcune autrici si sono lamentate e hanno detto che tipo niente, avevo barato, non avevo messo magari le autrici che mi stavano più simpatiche per prima e così, ma non è assolutamente vero, così gli ho spiegato che non era assolutamente vero, ha pescato tutto il caso, tant'è che alcune delle prime storie magari hanno solo tre capitoli, questa che vi sto per consigliare ora è sfortunatamente finita, non la leggo da un bel po', non mi sto aggiornando da un bel po', ma oggi mi recupero gli ultimi cinque capitoli che mi mancano, ma merita, merita veramente tanto comunque la storia in questione è I suoi occhi verdi, è già dal titolo, potete capire, l'abbreviazione è Isov, sì Isov perché I suoi occhi verdi, ok ho bisogno di un tempo per collegare però è Isov, e l'autrice è Alia Anderson, potete trovarla su Instagram cercando trattino basso Alia è trattino basso Anderson trattino basso autrice, comunque qua sotto vi metto il suo link di Instagram e potete sempre trovarla anche su TikTok come trattino basso Alia trattino basso Anderson trattino basso autrice, quindi potete sempre trovarla anche comunque su questi nomi su TikTok, perciò senza perderci in altre chiacchiere io direi di far partire l'entro così iniziamo. Come vi ho detto prima, ora inizio a fare tutto il giro della stanza come faccio ogni volta quando vi registro, vabbè comunque, come vi ho detto prima, il libro è stato scritto da veramente un'autrice favolosa, è una ragazza di 13-14 anni ed è veramente un libro molto molto forte e molto molto bello, il libro in questione è I suoi occhi verdi di Alia Anderson, autrice, qua sotto vi metto il link per andare sul suo profilo Instagram, dal quale voi potrete accedere al profilo Wattpad, dato che a me Wattpad in questi giorni funziona solo dal computer, non so perché, ma non mi va più dal telefono, vabbè comunque, l'autrice Alia è stata veramente stradisponibile, stracarina, infatti le ho scritto dopo pochissimo tempo, mi ha risposto, mi ha mandato la trama, tutto quello di cui avevo bisogno e perché io ho paura, cioè a dare la trama di Star Wattpad, proprio perché ho paura magari di saltare i punti principali, perciò ho preferito chiedere alle autrici, dato che ho avuto comunque questa possibilità, ma ho avuto anche la loro disponibilità, tutte stra carine, tutte stra gentili, vabbè comunque Alia, la ragazza in questione, ha scritto i suoi occhi verdi su Wattpad, l'ha iniziata qualche mesetto fa e ora dovrebbe essere finita, sfortunatamente con la scuola mi mancano gli ultimi capitoli che devo recuperare, probabilmente li recupererò stasera, ma perché devo assolutamente sapere come va a finire la storia tra Ellie e Gabriele, e veramente merita, merita l'anima questo libro, mi piace un sacco, quindi ora procedo a leggervi la trama per poi arrivare comunque a leggervi i temi, e un estratto del libro e poi alla fine la mia recensione. Detto questo, quindi direi di iniziare con la trama che gentilmente Alia mi ha fornito. Quando passi troppo tempo ad amare una persona ti dimentichi di te stessa e nel momento in cui perdi definitivamente te stessa capisci che la persona che hai sempre amato non è mai stata quella giusta. Ellie e Gabriele devono separarsi per un motivo che allo stesso tempo li lega ed andando avanti ognuno con la propria vita capiscono di non potersi dimenticare l'uno dell'altro perché hanno bisogno di starsi accanto. Quando finalmente riescono a trovare la loro felicità ci deve sempre essere qualcosa che non va, è quello che è capitato a loro. Riusciranno a ritrovare la loro felicità in qualcosa o addirittura in qualcuno? Ellie e Gabriele amici fin da piccolissimi, la loro amicizia era qualcosa di splendido, un po' come un capolavoro. Quel giorno quando Ellie ricevette la lettera da parte di Gabriele iniziò a piangere e una parte di lei se ne andò via con lui. Ellie non è mai riuscita a trovare l'amore che meritava, ma quando incontra Adam si perde nei suoi occhi azzurri, dimenticando finalmente Gabriele. Dopo tutti i momenti passati insieme a Gabriele riuscirà finalmente a dimenticarlo. Davvero ora che aveva una vita e aveva Adam con sé? Ellie finalmente è felice con Adam e immagina un futuro con lei quando una sera si ripresentano le sue crisi davanti ad Adam. Lui l'amerà nonostante tutto. Gabriele finalmente è felice con Nancy e immagina un futuro con lei quando un giorno decide di riscrivere ad Ellie. Riusciranno mai ad essere felici insieme nonostante Ellie desideri un futuro con un altro ragazzo? Allora, questa è la trama e io ve lo giuro che se dalla trama non vi è venuta voglia di leggerlo io vi prendo e vi butto giù dalla finestra. Non ne vero voglio essere così minacciosa che dai non scherziamo. però veramente è un libro bellissimo perché parla del primo amore e di come non si riesce a dimenticare e io ve lo giuro, cioè sta cosa mi fa un sacco piangere io voglio sapere se poi alla fine Ellie così ritroveranno la loro felicità anche perché dai Adam sta abbastanza antipatico con i miei, dai cioè bisogna essere omesti però veramente io ve lo giuro cioè vi deve essere per forza venuta voglia di leggerlo è troppo bello le tematiche sono scene esplicite, linguaggio volgare, insulti molto 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 pesanti violenza domestica, tanta violenza domestica violenza psicologica anche fin troppo cioè letteralmente sembrava che la stessi subendo io ad un certo momento della storia poi traumi, abusi e morte e Alia l'ho consigliato a un pubblico sopra i 16 anni io mi sento non per andare in conflitto con l'autrice niente però io mi sento di consigliarlo a un pubblico di 17 anni minimo io 16 anni l'ho letto e non ero pronta a leggere un libro così perché il modo in cui hanno sofferto io non ero pronta non ero pronta proprio niente, cioè sotto zero, capito? perciò sono trovata catapultata in cui per quanto a me comunque i libri con tematiche molto forti così con tematiche molto dark mi piacciono anche questo mi è un sacco piaciuto ma l'ho trovato a parer mio con gli argomenti che erano fatti benissimo e per quello che è pesante perché io soltamente leggo dark così anche su Wordpad ma le tematiche sono trattate in modo superfluo qua no, sono trattate proprio bene sembra quasi che l'autrice abbia vissuto quelle cose cioè il modo in cui le descrive perfettamente il modo in cui fa sentire gli stati d'animo dei personaggi in cui non tralascia nessun piccolo dettaglio sono veramente libri cioè sono veramente capitoli tematiche trattate molto molto bene questa cosa mi ha un sacco piacere cioè perché non le dà tanto per scontato però comunque io a 16 anni così mi sono ritrovata questo capolavoro con queste tematiche descritte in maniera molto molto bene e molto forte e perciò io mi sento di consigliarlo a un pubblico di 17 anni soprattutto se magari come me non siete abituati a un libro così così tanto 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 forte perciò lo consiglio comunque a un pubblico così a me è sembrato un dark romance poi non sarò tricci in cosa l'unica mi è sembrato un dark romance bar romance romanzo di formazione e così via mi è un sacco piaciuto e perciò comunque lo consiglio a un pubblico 16 anni e mezzo ma come riferisco sempre in ogni commento quando mi chiede l'età che l'età lo consiglio in ogni video ogni sondaggio su Insta ogni messaggio così l'età varia in base alla persona l'età è soggettiva ok Contate che Aria ha 13 anni mi ha scritto un libro con queste tematiche veramente molto forti ma in maniera molto molto sostanziosa molto molto cioè non mi viene a parlare molto bene a quello di scritti molto molto bene perciò l'età è sempre soggettiva perché ci sono persone che possono leggere questo genere di libri senza scandalizzarsi magari a 11 anni persone invece che a 17 anni 16 se leggono comunque cioè ci stanno male soffrono comunque la notte continuano a pensarci come è successo a me quindi veramente io mi sento di consigliarlo a un pubblico di 17 anni se comunque non vi siete mai avventurate i libri che trattano argomenti così tanto bene ma veramente tanto tanto bene cioè secondo me questo libro merita un sacco l'estratto allora la copertina è bellissima la copertina che mi ha mandato lei stra stra figa io l'amo però la copertina ora originale del libro ve la metto però la copertina che mi ha mandato lei ad agosto mi sembra era molto molto bella perché c'era il cioè c'era un ragazzo pieno di tatuaggi con gli occhi verdi c'era la scritta veramente molto molto bella la copertina io l'ho amata ho scriverato come una matta l'estratto che mi ha scelto che ha scelto di mandarmi Alia perché l'estratto potevo anche sceglierlo io certo però non mi sembrava giusto nei confronti dell'autrice quindi l'estratto è d'ora in poi non sarà più un problema ci sono ok d'ora in poi non sarà più un problema amore mio io lo guardai e mi strinse lui è ancora più forte lui si avvicinò per osservarmi da più vicino e mi sussurrò perché non mi hai mai detto quello che ti faceva avrei potuto salvarti io non avevo bisogno di essere salvata avevo semplicemente bisogno di essere amata sono disposta a farlo ti prometto che lui non ti farà più del male ti ha fatto vivere la prestezza il luogo in cui non doveva esistere sono disposta a farti vivere la felicità in posti in cui non esiste perché saremo noi a crearlo insieme mi appoggiai al suo petto e lui capì che quell'abbraccio era come sussurrare un grazie e questa frase la ha non so se posso dirlo però comunque l'ha pubblicata anche lei sulla sua page di insta vi ripeto trattino basso agli trattino basso enderson trattino basso autrice comunque vi metto qua sotto tutto l'ha tatuata anche sua madre io ve lo giuro i brividi proprio me lo cioè me lo sarei tatuata anch'io se solo fosse stata maggiorelle sì esatto sì i verbi sono corretti quindi vabbè questo è un libro bellissimo ora parto con la mia recensione le stile che do non l'ho ancora finito quindi comunque in base a quello che per ora ho letto perché poi mi sono interrotta a contare che ora leggo più libri cartacei che Wattpad soltamente in inverno leggevo più Wattpad che libri cartacei viene stato letto più Wattpad che libri cartacei vabbè è successo un po' un casino quest'anno quindi così si sono scombusolati i piani vabbè per quello che ho letto ora io mi sento di dare 4 stelle e mezzo avrei dato 4 stelle non ho dato 4 stelle e mezzo perché tratta non so quante volte ne avevo detto ma tratta benissimo le tematiche nel libro non trascora niente è tutto fluido è tutto comunque unito c'è capito non è che parte con un discorso tipo non lo so Gabriele che ne so tipo fumava e dopo due secondi dopo tre capitoli Gabriele non ha mai fumato in vita sua capito è coerente ecco cioè quindi non non distacca i discorsi comunque sempre cioè a me è piaciuto è molto molto bello perciò anche anche il modo di scrivere molto fluido molto facile da leggere e cioè tipo tu leggi no ci sono alcuni capitoli così leggeri così soft così bene poi il capitolo dopo non si sa mai cosa potrebbe succedere cioè potrebbe anche esserci tipo un cioè letteralmente un suicidio da parte di qualcuno dei protagonisti letteralmente con Aya non si può mai stare tranquilli ha scritto sta scrivendo un secondo libro su WhatsApp io tipo siedo non vedo l'ora di leggerlo e vi dico solo che ho visto i protagonisti e mamma mia tanta roba veramente tanta quindi niente è un'idea anche in questo in realtà però vabbè letteralmente io ho innamorata di Ellie con non so cosa cioè ha proprio il mio cuore la mia donna il mio tutto e niente perciò scritto veramente in maniera molto fluida molto coincisa tra essa cioè tra di loro mi è un sacco piaciuto i capitoli non sono distaccati ecco è una cosa molto molto bella e per il resto come ho già detto lo consiglio a un pubblico di 17 anni in caso voi comunque non abbiate mai letto libri così un pubblico magari anche di età inferiore in caso voi comunque queste tematiche mi auguro di no perché se fosse così veramente mi sentirei malissimo però in caso voi le abbiate già vissute potete sempre venire a scrivermi come vi ho già detto 40.000 volte su insta trattino basso legiamo insieme trattino basso io sono sempre disponibile per una bella che grata per aiutarvi tanto non c'ho nulla da fare quindi state tranquilli venite pure a scrivermi in caso comunque voi le abbiate già vissuto o avete qualcosa a voi vicino che avete vissuto queste cose potete provare a leggerlo perché comunque vi fa sperare in un futuro migliore in uno spiraglio di luce perciò questo è ragazzi spero che il video vi sia piaciuto ma soprattutto spero che voi ora andrete tutti quanti a leggere il libro di Alia Anderson vi ricordo di nuovo il titolo del libro I suoi occhi verdi poi il secondo libro che sto scrivendo è Io ti possiedo ma per ora quello pubblicato è I suoi occhi verdi che prossimamente sarà disponibile anche su Amazon in modo cartaceo quindi in caso voi non vogliate leggerlo ora su Whatsapp così potete anche leggerlo cartaceo però come ho già detto in questo video l'ho fatto proprio per le persone che magari non possono permettersi sempre libri cartacei così capito vario un po' dai mi sembrava più che carino così da coinvolgere tutti voi che mi seguite e niente ragazzi questo è spero che il video vi sia piaciuto e detto questo io vi mando un super bacione come ogni volta che vi registro un video vi mando un super abbraccio se vi va fatemi sapere sotto nei commenti come sta andando la scuola perché sinceramente a me viene dato che io sono al secondo piano venire da aprire la finestra e buttarmi giù nel parcheggio per poi essere investita da un'auto però a quanto pare non posso farlo perché le papà hanno detto che no poi le mie compagnie vengono promosse grazie a me quindi non se ne parla perciò niente mi raccomando impegnatevi sempre a scuola perché faccio sempre queste battutine perché comunque un minimo so che con voi posso scherzare così un minimo vi conosco però a parte questo la scuola è veramente molto importante ragazzi perché senza scuola tutto questo che abbiamo ora non lo avremmo mai avuto tra persone che sono andate a scuola hanno studiato quindi studiate perché è solo grazie allo studio che riuscirete a costruire tutti i vostri sogni detto questo quindi con questa perla del giorno vi lascio e niente torno a studiare perché la prossima settimana ho quattro verifiche e cinque interrogazioni ciao ragazzi vi mando un super bacio